Per dono quota Mina Eros Ramazzotti conquista la vetta della classifica la ristampa del CD Fatti sentire di Laura Pausini che, nella nuova versione, si intitola Fatti sentire ancora e contiene oltre tutte le canzoni presenti nella versione originale anche il duet con Biagio Antonacci, Il Coraggio di Andare Torna in classifica anche Cesare Cremonini che ha realizzato una versione pianoforte e voce delle canzoni contenute in possibili scenari Torna in classifica anche Sfera e Basta con un box natalizio che contiene i CD Rockstar e Popstar con alcuni inediti e versioni remix A proposito del rapper, Fimi certifica il quarto disco di Platino per le 200.000 copie vendute di Rockstar che, di questi tempi, è tanta roba Fuori della 10, Top Capo Plaza 22 gradi, Renato 0 25 gradi, Gazzelle 34 gradi, Carl Brave 39 gradi La Top 10 CD, Fimi 1 Fatti sentire ancora Laura Pausini più 55 posizioni 39 settimane Il singolo è il coraggio di andare Fit Biagio Antonacci Il video è stato visto 4 milioni di volte 2 Atlantico Marco Mengoni Meno un posto 2 settimane Il singolo è La live a Palazzo Madama Torino Il video è stato visto 84 mila volte 3 possibili scenari per pianoforte e voce Cesare Cremonini più 39 posti 55 settimane 4 Rockstar Popstar Edition Sfera e Basta Più 11 posti 47 settimane Il singolo è Cupido Remix L'audio video è stato ascoltato 434 mila volte 5 Playlist Salmo Meno 2 posti 5 settimane 6 Il ballo della vita Maneschi Meno un posto 7 settimane 7 Paradiso Lucio Battisti Book Song Mina 2 settimane 8 Vita ce n'è Ros Ramazzotti Meno 4 posti 3 settimane Il singolo è Vita ce n'è Il video è stato visto 3 milioni 793 mila volte 9 Live in Buenos Aires Coldplay New Settimana 10 Pop Art Georgia Meno 2 posti 4 settimane Top 5 Compilation 1 Zecchino d'oro 61 Edizione Ugale 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 5 settimane 2 Radio Italia Winter It's 2018 Ugale 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 4 settimane Il singolo è Complici Enrico Niggio Tifit Gianna Nannini Il video è stato visto 8 milioni 186 mila volte 3 Hot Party Winter 2019 Più un posto 3 settimane 4 X Factor 12 Inediti Meno un posto 3 settimane 5 Il meglio dello zecchino d'oro Più due posti 35 settimane Nel segmento singoli Balza in testa Salmo Che precede Sfera E basta In classifica Entrambi con tre brani Più un brano Che li vede insieme E il Maneskin Punto L Apostrofo Altro in classifica E il vincitore di X Factor Anastasio Punto 1 Il cielo nella stanza Salmo Fit Stasia Più tre posti 5 settimane L'audio video è stato Ascoltato 8 milioni 692 mila volte 2 Happy Birthday Sfera E basta Meno un posto 2 settimane 3 Torna a casa Maneskin Ugale 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 11 settimane Il video è stato visto 45 milioni 251 mila volte 4 La fine del mondo Anastasio Meno due posti 3 settimane Il video è stato visto 2 milioni 491 mila volte 5 90 mila Salmo Più due posti 12 settimane 6 Popstar Sfera E basta Mio Un settimana